vediamo un po' se arriva qualcuno com'è Seve? ah sei andato sui dritti? auto auto come'è 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 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 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14